Così il video viene togliato giusto. Possiamo ricominciare con la diffalazione. Grazie mille. Allora grazie, adesso proseguiamo con le audizioni. Adesso con il professor Antonio Gullo, ordinario di diritto penale presso l'Università Lewis. Le audizioni riguardano la disposizione in materia di... No, se mi girate le pagine faccio fatica. Eccola qui. Diffamazione a mezzo stampa e lite temeraria. Quindi professore, non so se ha sentito le nostre regole, avrà circa 10 minuti, domande e poi avrà il tempo per le risposte. Grazie professore, prego. Se si sposta di là forse fa meno fatica. Grazie. Grazie Presidente, onorevoli senatori, ringrazio anzitutto per l'invito a partecipare ai lavori. Ovviamente è un privilegio poter dare un contributo. Sulla base di quanto mi è stato riferito, ho esaminato i disegni di legge in materia, prendendo in particolare come riferimento quello che mi è stato detto essere poi adottato come testo base, cioè il disegno di legge 466, però ho poi proceduto naturalmente anche a esaminare gli altri disegni di legge. Poche battute soltanto iniziali, di modo visto il tempo da entrare poi nel vivo dei diversi aspetti relativamente alla tipologia di intervento. Nel senso che la scelta come linea di politica criminale è quella di mantenere due ipotesi, due fatti specie. Una, quella contenuta nell'articolo 13 della legge sulla stampa, che come sappiamo era stata dichiarata incostituzionale dalla Corte in un intervento recente, e poi il 595 con altre modifiche. Da questo punto di vista un primo aspetto è quello della ridefinizione della nozione di stampa, che si estende anche ai quotidiani online registrati e poi a telegiornali e giornali radio. Rispetto ai quotidiani online si fa riferimento a continui prodotti pubblicati, trasmessi o messi in rete dalla redazione degli stessi, qui probabilmente si può fare semplicemente riferimento senza richiamo alla redazione a quelli appunto prodotti o pubblicati dagli stessi. Per quanto riguarda i giornali radio, segnalo che va aggiornato come è presente in uno dei disegni di leggi richiamo normativo che oggi è all'articolo 35 del decreto legislativo numero 208 del 2021. Gli altri aspetti appunto sono relativi all'intervento sull'articolo 13, che era appunto stato dichiarato incostituzionale nel 2021, viene appunto prevista lì una fattispecie in cui si contempla unicamente la pena pecuniaria per quanto riguarda la diffamazione a mezzo stampa secondo la nuova nozione di stampa e si prevede l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dalla professione giornalista in ipotesi di recidiva gravata specifica di cui è l'articolo 99 secondo comma numero 1 e si introduce una rilante novità nel caso di offesa che consiste nell'attribuzione di fatti falsi con la consapevolezza della falsità. Si modifica il 57, si dà partito a rilevo alle rettifiche e si interviene sull'articolo 595. Allora il primo aspetto su cui interverrei riguarda la scelta di fondo relativa al trattamento sanzionatorio, c'è la scelta di abbandonare la reclusione e di orientarsi sulla pena pecuniaria. Ora questa scelta, a mio giudizio, è in linea con la giurisprudenza della Corte Europea di Diretti dell'Uomo come sappiamo a partire dal leading case in materia che è il caso Cumpana e Mazzara contro Romania Mazzara contro Romania, la Corte Europea di Diretti dell'Uomo ha evidenziato come nel caso di Press Offences il ricorso appena detentiva di per sé non sia incompatibile con la Convenzione ma è possibile prevedere la reclusione soltanto in caso di eccezionale gravità quando altri diritti fondamentali possono essere lesi e richiama sempre come casi semplificativi discorsi d'odio e incitamento alla violenza. Ora a me pare anche alla luce della giurisprudenza successiva, in particolare il caso Sallusti, che la Corte Europea abbia evidenziato nella sua giurisprudenza in maniera abbastanza chiara il fatto che questi casi eccezionali vanno parametrati alle ipotesi semplificative che vengono menzionate cioè discorsi d'odio e incitamento alla violenza, dunque non fatti di diffamazione, seppur di eccezionale gravità. È vero che la Corte Costituzionale nella sentenza 150 del 2021 sembra aprire la pena detentiva facendo riferimento a casi quali campagne di disinformazione citotestualmente condotte attraverso la stampa, internet, i social media, caratterizzare la diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima e compiuta nella consapevolezza da parte dei loro autori dell'oggettivo e dimostrabile falsità agli addebiti stessi. E su queste basi la Corte ha ritenuto di non dichiarare incostituzionale il 595,3 laddove prevede, come sappiamo, in alternativa alla pena pecuniaria alla detentiva. Dichiarano incostituzione il 13 perché la pena era cumulativa in quel caso. Ora, rispetto a questo, io sono dell'avviso che si tratta di condotte, quelle riguardanti l'avvio di campagne diffamatorie, che sono comunque molto difficili da riportare entro gli schemi garantistici della norma penale. In particolare, è difficile tipizzare eventualmente queste condotte con modalità che siano in linea col principio di precisione del precetto. Per quanto riguarda gli altri casi eccezionali, hanno una loro afferrabilità se facciamo riferimento all'offesa consistente nell'attribuzione di fatti falsi con la consapevolezza della falsità, che però, secondo me, opportunamente nei disegni di legge in questione, viene sanzionata esclusivamente con la pena pecuniaria, più robusta come ovviamente giusto. E nel caso, appunto, che abbiamo detto prima, di recidiva aggravata specifica, di quel 99, secondo comma, numero 1, con l'applicazione, con la pena accessoria dell'interdizione dell'esercizio e della professione. Quindi, a questo punto di vista, i disegni di legge, a me pare, si muovono nella direzione che è maggiormente conforme alla giurisprudenza della Corte Edu. Da questo punto di vista, anche rispetto ai precedenti citati nella sentenza della Corte Costituzionale, sono tutti precedenti in cui la Corte aveva accertato la violazione rispetto ai potesi di diffamazione dell'articolo 10, l'unico caso che ha Damanciuk contro Russia, in realtà è un caso peculiare che riguarda piuttosto l'istigazione dell'odio tecnico-raziale e sono casi nei quali la Corte, in realtà, ha sottolineato che non si tratta di un precedente in termini con quella sentenza che vi ho citato prima della Grande Camera, Cumpana, che è il precedente di riferimento. Segnalerei, invece, alcuni problemi di coordinamento per quanto riguarda la proporzione del trattamento sanzionatorio e l'equilibrio sanzionatorio complessivo tra gli articoli 13, il nuovo articolo 13 della legge sulla stampa, il 595 del Codice Penale, anche all'interno di queste disposizioni. Il primo aspetto, che a mio giudizio è un aspetto in relazione al quale sarebbe opportuna una riflessione, è legato al fatto che il nuovo articolo 13 prevede esclusivamente il caso di diffamazione commessa con mezzo della stampa, quindi diciamo l'ipotesi base o altri prodotti editoriali, quali vengono definiti nel nuovo articolo 1, che è punita con la multa da 5.000-10.000 euro. E poi prevede l'ipotesi in cui l'offesa consiste nell'attribuzione di un fattore determinato falso con la consapevolezza e la falsità da parte dell'agente, che è punita, come dicevo correttamente, più severamente a 10.000-50.000 euro. L'articolo 13 però non contempla, non prevede l'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fattore determinato. Allora, in questo assetto di disciplina, secondo me l'articolo 13 allude ancora, vista la medesima formulazione del vecchio articolo 13, a un'ipotesi circostanziale. Peraltro il problema permane anche se fosse un'ipotesi autonoma. Però, se, come penso, dovrebbe essere qualificata come un'ipotesi circostanziale, allora accadrebbe che la diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato risulterebbe dal combinato disposto, quindi già ci sarebbe un problema di una combinazione normativa che certamente rende più complessa l'applicazione, del 595,1, cioè l'ipotesi base di diffamazione, il comma 2, che è diffamazione base, quella codicistica, 595 attribuzione di un fatto determinato, è l'articolo 13,1 del nuovo articolo 13,1 della legge sulla stampa, che è la diffamazione a mezzo stampa che è stata adesso formulata. Qual è il risultato? Che, diciamo, potrebbe in linea teorica trovare applicazione una pena nel minimo più bassa di quella prevista dalla diffamazione a mezzo stampa base. Cioè, quello che in realtà accadrebbe in questo modo, che questa ipotesi di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato potrebbe essere punita in linea teorica nel minimo meno della diffamazione a mezzo stampa semplice, senza fatto determinato. Questo chiaramente sarebbe un aspetto che inciderebbe sulla ragionevolezza del trattamento sanzionatorio. In base poi all'altro aspetto, secondo me, su cui avviamo una riflessione all'attuale formulazione, il nuovo articolo 13 vedrebbe la pena accessoria applicata in realtà a tutte le ipotesi previste, sia quella di diffamazione a mezzo stampa, diciamo, che verrebbe riformulata nell'articolo 13, sia quella di attribuzione di un fatto falso con la consapevolezza della falsità, che è un'ipotesi ovviamente che ha un disvalore decisamente più superiore. Trattandosi naturalmente di una pena che ha una certa incisività, cioè la pena accessoria, in realtà così verrebbe applicarsi a due ipotesi che hanno diverso disvalore. Cioè l'ipotesi base della diffamazione a mezzo stampa è quella della diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto falso con la consapevolezza della falsità. Su questo avvierebbe una riflessione se non riferirla soltanto all'ipotesi più grave. Problemi sotto il profilo dell'equilibrio sanzionatorio esistono anche se guardiamo al 595 come sarebbe riformulato. Perché c'è la diffamazione base, cioè l'offesa all'altura di reputazione, comunicando con più persone. Quindi non riguarderebbe la stampa. Che sarebbe però sanzionata nel minimo giustamente meno della diffamazione a mezzo stampa. Ma nel massimo, 10.000 euro, sarebbe uguale alla diffamazione a mezzo stampa, pur essendo un fatto che ha un disvalore minore. Allo stesso modo, nel 595 sempre, la norma codicistica, la diffamazione comune, tra virgolette, commessa con l'attribuzione di un fatto determinato, sarebbe punita nel massimo, come giusto, in misura superiore alla diffamazione base, 15.000 euro rispetto a 10.000, ma nel minimo sarebbe punita in modo decisamente inferiore. Perché la pena è reclusione e multa, scusate, fino a 15.000 euro e quindi comporterebbe l'applicazione del minimo legale di quell'articolo 24, che sarebbe 50 euro, a fronte dei 3.000 euro di pena minima che è prevista dalla diffamazione base. Quindi anche questo è un aspetto su cui sicuramente bisognerebbe, a mio giudizio, svolgere una riflessione. La diffamazione con altro mezzo di pubblicità, di cui al terzo comma del 595, che quindi riguarderebbe mezzi di pubblicità diversi dalla stampa, o quotidiani online registrati, tutto ciò che è definito l'articolo 1 della legge sulla stampa, sarebbe punita, in questo caso, con le pene previste dalla diffamazione base del 595, 3.000, 10.000 euro, aumentate della metà. Il risultato è che il giudice potrebbe, in teoria, irrogare una pena di 15.000 euro, che nel massimo, che sarebbe superiore, in realtà, da questo punto di vista, al massimo 10.000 euro, che può applicare, nel caso di diffamazione a mezzo stampo, altri quotidiani online registrati. Laddove la scelta, mi pare, di disegni di legge, di prevedere lì una disciplina specifica nell'articolo 13, dimostrerebbe il fatto che ritiene quelle ipotesi caratterizzate da maggior disvalore, eppure nel massimo rischierebbero di essere punite meno, o potrebbero essere punite meno, rispetto alla diffamazione con altro mezzo di pubblicità. Allora, se la linea di politica criminale è quella di mantenere due disposizioni, l'articolo 13 legge sulla stampa, l'articolo 595, a me pare che si debba, diciamo, fare una riflessione, anzitutto, nel senso di costruire queste due ipotesi come autonome, e quindi, diciamo, fugare ogni dubbio, escludere, diciamo, la possibile qualificazione dell'articolo 13 come aggravante rispetto al 595 ipotesi base. L'altro aspetto, secondo me, importante, come penso sia emerso dalle considerazioni che ho svolto, è quello di procedere a un riequilibrio sanzionatorio all'interno delle singole disposizioni anche nei rapporti tra l'articolo 595 e l'articolo 13. Un aspetto che tocca il disegno che è un aspetto sicuramente opportuno è quello della competenza territoriale che viene radicata nel luogo di residenza della persona offesa. Si tratta di una soluzione, secondo me, apprezzabile che, tra l'altro, diciamo, trova riscontro nella presente disciplina in materia di radio e televisione. Qui, l'aspetto su cui riflettere è, se non fa richiamo, anche alla diffamazione telematica. Qui si richiama soltanto il 13 e il 57 del codice penale. Questo, diciamo, è un aspetto. L'altro profilo, praticamente, è la rettifica. Ora, la rettifica, visto il tempo, non posso soffermarmi perché è una disciplina estremamente articolata, ma, nei disegni di legge, è uno strumento privilegiato di riparazione dell'offesa arrecata. Si prevede la possibilità da parte dell'autore dell'offesa di richiedere la rettifica, così come di arredire alla richiesta della persona offesa. Il direttore e il responsabile possono, parimenti, procedere spontaneamente alla rettifica, indipendentemente, dunque, dalla richiesta della persona offesa. Poi, si intende rafforzare l'obbligo dei responsabili di pubblicare la rettifica perché, nell'ipotesi in cui vi sia un rifiuto, si conserva la possibilità prevista dall'attuale normativa di ricorrere al 700 del codice di procedura civile, che sembrerebbe steso anche all'autore dell'offesa. Si prevede, però, in ipotesi di condanna, che la parte in adempiente sia anche condannata al pagamento di una sanzione destinata alla Cassa delle Ammende. E nell'ipotesi in cui poi non adempia integralmente alla pubblicazione per estratto unitamente alla rettifica o smentita del provvedimento, si dice che si risponderà ai sensi dell'articolo 388 secondo comma del codice penale. In alcuni disegni di legge numero 81 si prevede nell'iscritto articolo 13 l'applicazione al direttore o vice direttore responsabile della testata delle medesime pene della diffamazione a metodostampa qualora, a seguito della richiesta e l'autore della pubblicazione abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità previste nel disegno di legge. Segnalo peraltro rispetto a quest'ultima norma che si porrebbero problemi di frizione questa del disegno di legge numero 81 con la giustrenza della Corte Edu che rispetto a questi casi ha ritenuto soluzioni normative del genere in contrasto con l'articolo 10 sentenza Kaspersky contro Polonia del 3 aprile 2012 allora rispetto a questo io mi permetto diciamo di evidenziare che non sembra persuasiva anche in relazione appunto al contrasto con la giustrenza della Corte Europea l'eventuale introduzione prevista però non dal testo base ma dal disegno di legge numero 81 di un reato nei confronti del direttore o vice direttore responsabile che non proceda alla pubblicazione della richiesta scusate della rettifica smentita su richiesta dell'autore dell'offesa devo dire che non mi pare convincente appieno neppure l'applicazione di una sanzione pecuniaria che si va associare alla condanna alla pubblicazione in base al 700 e devo dire non mi convince neppure il richiamo all'articolo 388 cioè nell'ipotesi in cui non si adempia compiutamente all'obbligo di pubblicare per estrati il provvedimento della rettifica e la smentita perché il 388 in realtà guarda sia come modalità di condotta e là si parla di elusione del provvedimento del giudice sia a contesto di applicazione a ipotesi molto diverse da quelle in esame lì si parla di mancata esecuzione dolosa di provvedimenti riguardo un affidamento di minori incapaci insomma altri provvedimenti che però sono di natura diversa quindi diciamo non mi sembrerebbe ipotesi da equiparare a quella presa in esame per quanto riguarda la centralità della rettifica devo dire che anche diciamo su questo il ruolo che viene assegnato la rettifica a mio giudizio fa emergere diciamo qualche perplessità se consideriamo quale dovrebbe essere la logica in questi casi della non punibilità cioè un premio per la riparazione dico che è attuata dal soggetto dell'offesa anzitutto perché come abbiamo visto in una serie di casi siamo praticamente in presenza di un obbligo seppur all'esito diciamo del ricorso da parte del 700 e sicuramente nei disegni legge che abbiamo visto in precedenza devo dire poi che la non punibilità secca mi sembrerebbe da rimeditare rispetto ai casi più gravi di diffamazione consistente nell'attribuzione di fatti falsi con la consapevolezza della falsità e segnalo che nel caso di rettifica spontanea non pare essere previsto un termine per il direttore responsabile dell'autore dell'offesa mi sembra invece apprezzabile il fatto che si precisi che la rettifica deve essere idonea a riparare l'offesa perché consente al giudice di effettuare un vaglio sulla natura realmente satisfattoria io su questo devo dire che mi sembrerebbe diciamo utile fare una riflessione se non inserire la rettifica all'interno di un istituto che è già presente che è stato nel tempo introdotto cioè il 162 terra che è l'estinzione del reato per condotte riparatorie allora si potrebbe stabilire che la pubblicazione di una rettifica idonea a riparare l'offesa o la richiesta dell'autore dell'offesa qualora sia poi rifiutata la pubblicazione siano valutate dal giudice ai sensi appunto dell'articolo 162 terra secondo me il vantaggio sarebbe quello di fare ricorso a un istituto presente nell'ordinamento di come dire inserire la rettifica insieme ad altri requisiti anzitutto risarcimento del danno tra quelli che il giudice dovrebbe valutare ai fini di riconoscimento della causa di cui si tratta e mi sembra che sia anche in linea con il nuovo articolo 11 bis che i disegni di legge introdurrebbero nella legge sulla stampa che attribuisce rilevanza nella determinazione del danno derivante dalla diffamazione tra gli altri elementi anche all'effetto riparatorio della pubblicazione della diffusione della rettifica o della smentita un altro aspetto riguarda l'articolo 57 allora sappiamo che nella prassi applicativa questo articolo ha comportato il rischio talvolta di fare emergere ipotesi di responsabilità di posizione qui diciamo gli interventi riguardano due aspetti uno entrambi diciamo condivisibili il primo riguarda l'introduzione della delega di funzioni rispetto a questo io segnalo diciamo come riflessione quella di valutare se non possa essere forse opportuno collocare questa disciplina non nel 57 ma in una norma generale all'interno della legge sulla stampa e per quanto riguarda i requisiti io li mutuerei con gli necessari adattamenti dall'articolo 16 del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro per esempio in quell'articolo non si fa riferimento alle dimensioni organizzative che è un elemento recessivo nella giurisprudenza in materia di delega e che non a caso non è stato ripreso nell'articolo 16 tra le diverse formulazioni per cercare di far emergere il profilo necessariamente di colposità della condotta dei soggetti tenuti al controllo devo dire che mi sembra andare maggiormente in questa direzione la formulazione contenuta in alcuni disegni di legge che lega la responsabilità a titolo di colpa del direttore e così via al fatto che il delitto realizzato sia conseguenza della violazione delle funzioni di vigilanza gravanti sui soggetti tenuti al controllo si potrebbe come si fa in alcuni disegni di legge appunto far emergere e precisare questo elemento all'interno dell'articolo 57 mi pare invece che però è previsto soltanto in un disegno di legge vada abbandonata l'idea di un'automatica responsabilità del direttore o comunque dei responsabili nel caso in cui si tratti di scritti non firmati perché darebbe luogo a una responsabilità di posizione gli ultimi due aspetti rapidissimamente il primo riguarda il segreto professionale mi sembra ragionevole estendere ai giornalisti e ai pubblicisti da questo punto di vista segnalo che l'articolo 2 della legge sull'ordinamento professionale ai giornalisti prevede l'obbligo professionale per i giornalisti senza distinzione tra professionisti e pubblicisti è lo stesso l'obbligo del segreto richiamato all'articolo 9 il testo unico dei doveri del giornalista visto il tempo diciamo soltanto questo accendo poi ovviamente se è necessario qualche ulteriore chiaramente si no chiuso subito soltanto per dire che gli articoli 3 e 4 del testo base che riguardano il cosiddetto diritto all'obbligo e il tema poi di eventuali rimozioni dei contenuti segnalo che si tratta di materie che attengono non solo la diffamazione ma che soprattutto interferiscono con il Digital Services Act che è un regolamento direttamente applicabile soprattutto il 4 in realtà andrebbe a ridisciplinare materie già compiutamente disciplinate al regolamento cosa che ovviamente non è possibile perché il regolamento è direttamente applicabile a mio giudizio è una materia che dovrebbe essere diciamo destinata a una riflessione ulteriore e diciamo quantomeno poi riservata ad altro diciamo intervento tenendo conto di questi problemi di interferenza con il Digital Services Act e lo stesso l'idea temeraria perché c'è la direttiva SLAP che si occupa di questi temi grazie grazie professore anticipo se poi può lasciarci l'appunto o vuole inviarci una nota così è più facile per gli uffici poi prendere atto della sua relazione ci sono domande senatrice Lopoiato poi senatore Berrino senatore Berrino prego senatrice grazie presidente la ringrazio per la sua ampissima relazione l'unica cosa che lei ha toccato soltanto accennato alla questione della competenza del giudice a dito e ha dichiarato che si trova comunque d'accordo sul fatto che viene indicato come foro competente quello del luogo della persona offesa secondo lei non c'è rischio poi nel caso in cui invece siano state colpite dal medesimo fatto più persone questo potrebbe in qualche modo incidere su una diversità di giudicate sulla medesima questione e oltretutto quindi chiaramente un foro diverso di quello rispetto alla questione della rifamazione semplice quindi questo volevo chiedere questo e poi un'altra cosa lei ha fatto semplicemente accenne alla questione della lite temeraria è vero non è proprio prettamente nelle sue materie però volevo siccome lei ha detto che ha letto tutti i disegni di legge se può dirmi qualcosa in più qualcun suo giudizio in merito alla questione della lite temeraria grazie aspetta raccogliamo le domande o rispondiamo raccogliamo tanto grazie alla senatrice che ha fatto domande sintetiche e puntuali consentendoci anche di guadagnare tempo senatore Berrino due precisazioni lei ha fatto riferimento diciamo così alla difamazione a mezzo stampa che paragonata alla difamazione non a mezzo stampa ma rivolta a più persone è in ipotesi più dannosa però questo non è sempre detto se io faccio una difamazione durante un comizio davanti a 5.000 persone ipoteticamente può raggiungere più persone e quindi essere più dannosa che una difamazione fatta su online o su un blog letto da pochi lettori quindi su questo non saprei come riuscire a dirimere e l'altra vicenda è invece sulla rettifica riparatoria che se noi diciamo la rettifica equivale alla riparazione per cui io rettifico su richiesta o su mia o motu proprio la falsa notizia della falsa affermazione del giorno o dei due giorni precedenti insomma quello che è l'arco temporale se invece noi la mettiamo nell'istituto che lei ha citato rimane aperta che non può essere sufficiente solo la rettifica ne so che nell'arco di tempo tra la notizia e la rettifica possono essersi creati dei danni causati dalla notizia ad esempio per un imprenditore piuttosto che una società quotata in borsa che non sono ricompresi all'interno che non possono essere riparati solo con la rettifica allora mi pare differente se noi consideriamo la rettifica totale cioè come riparazione totale oppure se la mettiamo all'interno dell'istituto riparatorio non so se ho spiegato bene la domanda grazie senatore Berrino c'è il senatore Berrini prego sì grazie presidente la ringrazio professore io volevo però porle una domanda che è un po' più come dire di fondo proprio ieri il Parlamento europeo ha approvato la legge europea per la libertà dei mezzi di comunicazione con un voto a larghissima maggioranza e qualche astensione dei partiti italiani nessun voto contrario dei gruppi appartenenti a partiti italiani poi c'è una costante giurisprudenza cedu su questi temi mi pare che l'ottica del testo adottato dalla maggioranza su cui lei ha espresso le sue importanti valutazioni però vada sia un po' unidirezionale e non tenga conto della sostanza di quanto come si dice ci chiede l'Europa cioè quella di tutelare naturalmente assieme alla reputazione assieme alla dignità delle persone che non debbono non possono essere diffamate in nessun modo tanto meno con l'attribuzione di fatti specifici ma questo come dire c'è già un impianto normativo che tutela questo il punto delicato nel nostro paese secondo me in questo senso abbiamo presentato proposte di legge e anche emendamenti su cui penseremmo di correggere il tiro se ci riusciremo e quello sì certamente di abolire il carcere per questo reato e su questo mi pare che ci sia un consenso unanime ma anche quello di tutelare il più possibile i giornalisti specialmente quelli di aree e di testate di siti online più deboli dal cosiddetto fenomeno delle querele temerarie ecco non pensa lei che l'asse di questo provvedimento così come la maggioranza lo ha configurato vada in una direzione unilaterale e non tuteli adeguatamente un tema costituzionale come quello della libertà di informazione che non riguarda solo chi scrive ma anche chi l'opinione pubblica e i cittadini grazie senatore prego grazie presidente allora per quanto riguarda il primo tema luogo di residenza della persona offesa secondo me è apprezzabile la soluzione perché si tratta di un intervento normativo che in passato era previsto dalla legge sulla radio televisione che in quel contesto effettivamente consentiva di risolvere i problemi di competenza che negli altri casi diciamo era la giusprudenza alla fine che affrontava spesso ricorrendo a presunzioni per quanto riguarda la consumazione e la diffamazione oppure ricorrendo appunto eventuali criteri suppletivi per quanto riguarda la competenza sotto questo profilo secondo me diciamo la scelta in tutti i casi in cui si tratti di diffamazione a mezzo stampo oppure attraverso i prodotti editoriali che sono segnalati e come dicevo si dovrebbe riflettere sulla diffamazione telematica in realtà intercetta un problema che è tipico di queste forme di manifestazione che invece ricorre in misura minore comunque si atteggia diversamente per quanto riguarda le ipotesi di diffamazione comune per cui da questo punto di vista diciamo anche la giurisprudenza che era maturata in passato rispetto all'ipotesi che menzionavo secondo me mette risalto come diciamo si tratti di un intervento che vada incontro diciamo a una esigenza che effettivamente era stata segnalata dalla Prassi per quanto riguarda che un tema che è stato evidenziato anche prima ovviamente io qua mi riferisco aspetti di carattere tecnico riguardo ovviamente a scelte di indirizzo politico e anche di politica criminale o in generale di politica legislativa che naturalmente sono di competenza della Commissione del Parlamento per quanto riguarda il tema della linea temeraria qui la questione secondo me è legata all'esigenza posta dalla recentissima approvazione da parte del Parlamento Europeo il 27 febbraio della nuova direttiva che appunto è nota come direttiva SLAP perché ha a che vedere con un intervento normativo contro le cause legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica di appunto soggetti che operano su materie di interesse pubblico diritti fondamentali accusi di corruzione e così via infatti è l'acronimo Strategic Laws Against Public Participation allora da questo punto di vista in realtà diciamo si tratta ovviamente di un tema estremamente articolato e che attiene a materia civilistica perché espressamente la normativa precisa che nella normativa è precisato che la presente direttiva non si applica alle questioni penali o all'arbitrato e lascia impregiudicato il diritto processuale penale però diciamo prevede un intervento estremamente articolato per quanto riguarda il tema delle liti temerarie segnalo per esempio soltanto il rigetto anticipato dalla domanda se la causa è infondata la possibilità di imputare ricorrenti le spese processuali stimate la possibilità che l'organo giudizionale adito possa esigere che l'attore costituisca una cauzione a copertura delle spese normative in tema di forum shopping il giudice può imporre anche altre sanzioni ricorrenti esempio condannando il risarciamento del danno ora rispetto a questo le previsioni che sono contenute in alcuni disegni legge in particolare 81, 95 e 616 vanno con alcune disposizioni nella direzione che è prevista dalla direttiva però poi non contemplano altre ipotesi come il rigetto anticipato ad esempio né ancora prima l'accelerazione della trattazione delle richieste e via procedendo per cui da questo punto di vista mi sembra che alla luce della direttiva possa essere utile fare una riflessione in un contesto organico di disciplina che tenga conto di questa direttiva per quanto riguarda l'altro aspetto che è stato richiamato a proposito della diffamazione io muoverei da una premessa di fondo che è quella che emerge dagli indirizzi di politica criminale che affiorano dai disegni di legge che è quella che è quello che è quello scusate perché purtroppo ho la voce rauca che è quello di punire più severamente le ipotesi di diffamazione a mezzo stampo oppure realizzate attraverso prodotti editoriali quotidiani online registrati insomma la nuova definizione di stampa di cui all'articolo 1 da questo punto di vista facevo proprio riferimento al fatto che un intervento che possa tener conto delle esigenze in punto di proporzione al trattamento sanzionatorio sia rispetto al 595 sia nei rapporti con l'articolo 13 naturalmente può risolvere la questione è chiaro che una prospettiva diversa però si tratta di una prospettiva che non è seguita diciamo dal disegno rispetto alla quale diciamo personalmente però ovviamente si tratta di riflessioni appunto che ho svolto nel corso degli anni anche nei miei studi anche in una prospettiva di semplificazione normativa sarebbe quella di articolare allora la disciplina su due ipotesi di carattere generale una legata all'offesa dell'altura di reputazione comunicando con più persone attraverso l'attribuzione di fatti se uno volesse delimitare la rilevanza penale soltanto all'attribuzione di fatti e l'altra invece che punisca naturalmente e più severamente lì potrebbero in gioco anche sanzioni interdittive l'attribuzione di fatti falsi che diciamo senza specificare con la consapevolezza della falsità perché consentirebbe di punire anche condotte che sono caratterizzate dall'eventuale e in questo caso dovrebbe essere la condotta connotata dall'utilizzo di mezzi che sono come dire espressivi di un partito di svalore perché sono caratterizzati da una particolare diffusività questa naturalmente sarebbe una prospettiva di tipo diverso ma se ci muoviamo nell'ambito degli indirizzi che emergono in disegni di legge l'indirizzo è quello di intervenire sull'articolo 13 riscrivendo l'articolo 13 sul 595 attuale il 13 per come è costruito e anche diciamo per le modalità di realizzazione della condotta è un'ipotesi che è ritenuta espressiva di maggior disvalore e diciamo in generale anche nell'elaborazione giurisprudenziale passata ma anche in interventi normativi la diffamazione che è attuata a mezzo stampa o attraverso mezzi che hanno un'analoga capacità diffusiva naturalmente si caratterizza per un disvalore maggiore rispetto a una diffamazione comune poi il tema naturalmente è quello di stabilire quali siano questi mezzi e quindi come dire definire la portata della norma qui i disegni lo fanno attraverso l'intervento sull'articolo 1 come dicevo sarebbe possibile naturalmente una strada diversa ma presupporrebbe un intervento di tipo differente che guardi a una disciplina comune a tutti i fenomeni e che a quel punto sarebbe una disciplina di carattere codicistico strutturata in maniera diversa l'esempio è quello che vi facevo prima grazie professore quindi ripeto attendiamo la sua nota così ci agevole il lavoro e direi che possiamo chiudere il posto grazie grazie grazie